Ciao amiche Denisi, mi trovo in Vallaurina, scusate se non mi sono fatta sentire prima, adesso sto camminando, passiamo un po' di giorni qui, le immagini sono belle, però non c'è il sole, il tempo non è un gran pie, adesso giro la telecamera per farvi vedere, ecco, lassù c'è un ghiacciaio enorme, però si sta coprendo con le nuvole, quindi non si vede, i torrenti sono tutti belli, belli abbondanti, diciamolo sì, perché in questi giorni sta piovendo, qui sono i boschi dove troviamo sempre porcini, laggiù c'è una maglia dove andremo a mangiare, perché camminiamo un pochino, però sopra c'è un rifugio, ma è tardi adesso, si può attivarci, e poi il tempo come vedete non è di migliori, bene, per adesso basta, poi vediamo se riesco a fare un video con tutte le foto che sto facendo, vado avanti perché sono mia figlia, mio nipote, Vittorio, e sono andata avanti, come sentite ho già il piadone, io non posso camminare più di tanto per i problemini che ho avuto per il cuore, però devo dire che quest'anno sto bene, quindi qualche passeggiata la voglio fare. Ciao a tutti, naturalmente gli impassi sono fermi, la mia cucciola sta riposando in frigo, ho fatto un raffreddoppio, un rinfresco, scusate, al doppio, e spero che mi tenga fino al mio ritorno. Ciao ciao!